Bella ragazzi, oddio è caduta la cuffia da morto, allora 100.000 mi piace per tatino Bella ragazzi, carico non ormai da FizzGamer Spaccate il like, dai ragazzi Oggi ragazzi siamo sia nel canale mio che quello di tatino Oggi ragazzi dovete lasciare un bel mi piace perché oggi faremo un doppio pack opening Io e tatino in quattro schermi praticamente E ragazzi dovete spaccare assolutamente il like oggi perché chi troveremo oggi, tatino? Allora io guarda ragazzi mi accontento anche di un Griezmann Bale E ovviamente se troviamo Ronaldo esplode YouTube Ragazzi se troviamo Ronaldo esplode YouTube Dai, si parte, partiamo insieme Allora faccio vedere prima della squadra di settimana Ok guardate c'è incredibile, ciao Messi Benissimo ragazzi Come vedete, ciao Andiamo a spacchettare, sono i pacchetti da 50.000 Abbiamo tutte e due 16.000 che va poi inzato in circa Tati cominciamo subito con il primo pacchetto Primo pacchetto da 50.000 ragazzi Alto 3, alto 3 3, 2, 1, via Si sta a prendere Via Oh mio dio regà, io pongo joystick perché non si sa mai qua Probiamo tutto Attenzione Ecco, eccolo, eccolo Portiere La morte Scartiamo tutto Qua possiamo scartare tutto Possiamo scartare tutto Va bene, inserisci perché tu lo devi trovare Allora regà Siccome adesso noi siamo a cab Lo apriamo col naso questo Quindi schiacciamo X col naso Vai Allora, 1, 2, 3 Già fatto, già fatto Cdc Che ci abbia non so Te Ma non c'è una Aspetta, un po' in ritardo Attenzione T.S Forcebook E Gekos E Gekos Unimoto doveva trovare Uuuu Bastui del Chelsea però Aspetta un attimo Bastui del Chelsea Che è un trasferimento E' un trasferimento Si, è un trasferimento Con il pene Con il pene è un po' difficile Con la lingua, vai con la lingua non è abbastanza crediti bene attenzione allora lo apro cioccino perchè portoghese ma non erano a me sta prendo me si sta prendo a tutti le vado 88 le vado schini mi ha trovato andereva c'è anche per lei di sospa questo come la prima come la prima come amo con l'orecchio l'orecchio possibile poi si è aperto si è aperto a me non sta prendendo attenzione a me l'ha aperto no lei non poteva essere una cosa dai 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 ciò ci oscar sicura merda mannaccio no cerci 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 dell'atletico no ragazzi qui non ci siamo infatti dobbiamo trovare qualcuno fate le mani al cielo di più s'alzano le mani al cielo ok apriamo 1 2 3 sta prendo per favore ti prego per favore atti verrà anche anche zunica del napoli grande ma anche se te ne vai che giocatori chiudiamo io chiedi tutti e due per il prossimo pacchetto vabbè chiudiamo al 3 o l'ho già aperto chiudi gli occhi chiudi gli occhi vabbè chiudi i miei occhi ok ok chiudi io anche il 3 quando si apre ti dico io quando riaprite ok va bene va bene allora facciamo al mio 5 1 2 3 4 5 oddio peresiccio peresiccio peresicci motmo ma fa mucca peresicci motmo quanto vuole si 100.000 100.000 che c'è davino che c'è io ho trovato a gecko per tippone siiii 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 bravo fius spaccatellate fius in lista di trasferimenti sii così andiamo così rega ragazzi dobbiamo aprirlo via senza indugi vai vai aprilo vai va un'altra volta portata fortuna chiudiamo gli occhi e io già sto vedendo reingolane ok io ho chiuso io ho chiuso io ho chiuso reingolane da dire il tuo 3 li apro ah però stavolta lo schippiamo stavolta lo schippiamo no da ti gia l'ho aperto non ci credo perchè chi si chiusi gli occhi no perchè sei un pacchetto a mani però tu ti gia l'hai aperto no ancora no ok a tutti vai allora stavolta lo schippiamo e 1 2 vai gia aperto vai vai gia aperto vai vai lo schippiamo al tre 1 2 e 3 continua info info mamma mia quando stiamo a scuola rega questo sembra a pova ciccio Ma che merda però, 10.000 Ho scartato un'iffa Ho scartato un'iffa Chiudo gli occhi Chiudo gli occhi Fiusi l'iriano Sino destro, zavaleta Ma vabbè, ma che fegullia Vabbè, l'ho trovato Sono sfigato Ma con il naso 1, 2, 3 Con il naso, ti prego Vai, Ibra, Ibra, il tuo naso Portavi fortuna Oh sì, l'88 Non poteva essere i mot Ma no Come l'apriamo? Con il culo Ma ancora non si può colpire Io l'ho fatto, l'ho fatto Col ginocchio, io l'ho fatto Col ginocchio Cdc Col ginocchio, raga Attenzione Cdc Ma che, tutti dalla Germania Al vestito della Juve Sì, ho 20.000 crediti Mamma mia Sì, ho sculato Abbiamo sculato Ma vabbè, da dire Sono pronto per un altro Un altro Per il prossimo Non lo guardiamo Questo non lo guardiamo Ci giriamo Fiusi, girati Ok Ok, ok Ok, no, cioè Non posso girarmi Con quelle V Però Non lo so vuota Fiusi, mi sono girato Fiusi Fatti davvero Vai A tu tre Vabbè, ma che Mi sono già girato Fiusi Hazard Tarocco Ma come manca Quattro tarocco Tarocco Fiusi Mi rimangono quattro pacchetti Anche a me Questo lo apriamo con La lingua Con la lingua Con la lingua Con la lingua È aperto Sì Attenzione Il mio si sta prendo Oddio 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 Yei a tu re Però Ma perché Sto rando buoni giocatori Ma che non valgono più niente Cioè Ormai è finito Fiusi Vabbè Vabbè Ultimi tre pacchetti Allora Io lo apro col telefono Col telefono Vai Col telefono Con l'iPhone Con l'iPhone Uno Due Tre Oddio Rega Ti sta prendo Lancio Lancio Questo Giro Lo lancio No Perché La C'era Il Il Molto Nella stessa pacchetta Piùs Oddio Oddio Vento Vale Aspetta Oddio Antone Ma che è 40.000, 30.000, ma che è, 30.000 vabbè, vabbè mamma mia signori belle, mokka mamma cioè, vabbè io ho un altro pacchetto, va bene? vai, apriamolo, apriamolo vai, aperto attenzione, att, germania kissling, mokka mamma ehi, c'è Filipe Luiz e vabbè, mi sei finito ultimo, l'ultimo, l'ultimo ultimo, però non guardamolo non guardiamo più, non guardiamo non guardiamo aspetta che non apriamolo non apriamolo, dimmi 3 dimmi 3 vai, 1, 2, 3 no, perisic no, perisic perisic, perisic un altro imo, perisic quanto vale, più se, 100.000 100.000, 100.000 sì, perisic sì, ho scolato anch'io ha trovato due emoti ma io ho uno aspetta, aspetta, abbiamo i pacchetti da dai, sì, io ho 650.000 fiva points e anch'io vediamo che c'è da 25.000 vai, questi li skippiamo o li guardiamo? che facciamo? skippiamo, vai, boom aspetta che c'è un problema al negozio va bene, va bene aspetta, lo skippo 3, 2, 1 boom vabbè, niente apri, apro questi ultimi due pacchetti poi basta ragazzi allora dovete spaccare assolutamente mi piace lasciate tantissimi like ragazzi quanti arriviamo? quanti arriviamo? ma lui, allora tutto canale minimo minimo 3.000-4.000 raga ok, 3.000 mi piace per il mio canale mentre per quello di Tatino ragazzi dobbiamo raggiungere almeno 800 mi piace ma almeno ma almeno quindi ragazzi vi lascio il link in descrizione sia del cioè del canale di Tatino e del video di Tatino lui farà viceversa perché io sto parlando pure per il suo canale quindi ragazzi Tatino spaccate il like e carichi come non mai e ragazzi dovete passare da Instagram a tutti i nostri social qui sotto in descrizione Tatatino e Fuse è tutto e al prossimo video bene bene ragazzi ciao 5 6 7 8 vai bene ragazzi oddi jövj a kata talán bucci idem mort alora bye